buonasera buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce oggi non è un video come gli altri perché non parlerò di un argomento in particolare è un video annuncio come ho sempre avuto l'abitudine di condividere praticamente con voi tutti con voi tutti tutto scusate sono un po emozionato niente oggi vi volevo dire che ieri vi ho fatto diciamo vedere una chiacchierata con alessandra paradis now su youtube trovate tra l'altro il link qua nel primo commento del suo canale se per caso non avete mai visto i suoi video e avevo questa chiacchierata però lei non è semplicemente per me una youtuber ci siamo visti di persona due mesi fa circa due mesi e mezzo fa aspetta siamo a primo novembre era nel 25 settembre più o meno comunque siamo via settembre però è da mesi che parliamo via skype chattando e volevo ufficializzare con voi il fatto che io mi sono fidanzato con lei ci siamo fidanzati l'ora poco anche annunciato su facebook ovviamente come cosa simbolo che per poco a quelli che hanno bisogno di ostentare su facebook il fatto sono fidanzato ufficialmente però come cosa diciamo di contorno a un certo sostanziale per me postarci ecco bisogna essere esagerati nell'attaccare la forma sono un esaltatore della sostanza basso la forma questo non significa che non ci possa essere anche della forma l'importante non essere schiavi della forma quindi anche su youtube volevo dirvi che io alessandra in quanto entrambi youtuber poi ho un canale più grande però siamo tecnicamente dei youtuber entrambi da oggi siamo insieme io mi sono innamorato di lei e più che altro perché faccio questo video perché non è che nella mia vita ho sempre annunciato gli eventuali fidanzamenti eccetera perché comunque questo aver conosciuto lei questo essere innamorato di lei questo aver deciso di mettermi insieme a lei comunque mette in discussione tante delle mie certezze sull'argomento amore innamoramento io da anni forse da un anno e mezzo che parlo di innamoramento e lo critico lo lo più che altro lo sminuisco ecco il messaggio sempre stato ultimamente l'innamoramento e fuffa non bisogna esaltarlo perché l'amore un'altra cosa o senz'altro concentrare una storia solo sull'innamoramento è sbagliato ok perché questo così come viene va e quindi l'amore è anche al di là dell'innamoramento però ho cambiato idea da quando conosciuto non è che mi sono innamorato di alessandra il primo giorno quello incontrato una cosa graduale però da quando pensato conosceva sempre di più e da quando sono iniziati a sorgere ma certi stati d'animo certe emozioni ho capito che l'innamoramento anche se non può essere identificato con l'amore solo quello è però molto importante perché ti dà delle energie che altrimenti tu non avresti è come se l'innamoramento fosse una sorta di scintilla che ti fa sentire ancora più vivo attenzione non metto in discussione le cose che ho sempre detto ovvero che la felicità deve essere trovata dentro di noi e non fuori no quello rimane quella base però è come se quando ti innamori non solo sei vivo perché io già mi sentivo vivo anche da non fidanzato ma diventi praticamente oltre l'essere vivo è come se ogni attimo lo vivessi più intensamente quindi siccome io non mi ma non amo rimanere ancorato a delle idee solo perché oramai le ho comunicate ma mi piace aggiornarmi mi piace mettere in discussione anche le mie idee da oggi non dico più a basso l'innamoramento dico viva l'innamoramento e l'innamoramento è molto importante per l'amore è vero che che può terminare però mentre prima dicevo termina di sicuro oggi non sono più così convinto come se si trova una persona giusta con la quale c'è una certa alchimia l'innamoramento può durare anche tutta la vita cioè tu hai quelle farfalle allo stomaco come i primi giorni per sempre sono convinto ora il dubbio potrebbe essere questo ma rigo tu da innamorato e penso proprio la testa e non ragioni più lucidamente la natura ti sta convincendo che queste farfalle dureranno per sempre allora dici questo invece secondo me non è così poi se mi sbaglio ve lo dirò io sono convinto che tra me e alessandra che io e lei siamo due fotocopie uno ieri mi chiedeva mai trovato una miss nichilista non è che lei è miss nichilista è diversa da me in molti lati però c'è un'alchimia che non so spiegarvi e forse è vero che dice che l'amore non si può spiegare sbagliavo dire che l'amore è solamente capacità di dare l'amore al 50 per cento si capace 50 per cento capacità di dare ma al 50 per cento anche follia tanto quindi la follia molto e tanto ma follia nel senso che tu non sai perché ma quella persona non lo sai perché non lo sai e non c'è niente di male nel fatto che non sai perché quindi evviva l'innamoramento perché io ieri stavo bene ieri intanto dire due tre cinque sei mesi fa stavo bene oggi sto ancora più bene e questo è grazie all'innamoramento quindi praticamente da oggi cambierà la mia visione dell'amore comunque verrà in parte modificata prima sminuivo l'innamoramento oggi esalto l'innamoramento l'innamoramento è davvero importante come fai ad avere a che fare con qualcuno andarci a letto baciarla se non sei innamorato certo può andarci a letto una volta ovvio ma se non sei innamorato poi dopo una volta non hai più voglia ho capito che è essenziale essere innamorati per avere ancora voglia di vedere l'altro di abbracciare l'altro di baciare l'altro ci ho messo un po di tempo a capirlo ma è così non basta avere capacità di dare non basta essere attrati fisicamente perché prima io dicevo tentazione fisica ti piace una ragazza dove c'è un ragazzo in più tu hai capacità ad amare vivi questa attrazione erotica più le tue capacità la tua affettuosità condividi cose non basta non basta che ti piace qualcuna fisicamente e che tu sia immensamente capace d'amare occorre anche la pazzia nell'innamoramento che ti fa diventare anche un po ossessionato però quell'ossessione che ci rende vivi forse io stavo descrivendo un uomo questi ultimi anni che era troppo distaccato dalla realtà troppo divinizato se ben io dicevi dicessi sempre no no è un uomo con i piedi per terra in realtà nei fatti non era un uomo con i piedi per terra l'uomo è fatto di carne e ossa è fatto anche di dinamiche irrazionali e quindi se durante l'innamoramento ti viene una sorta di ossessione una sorta di fissa non è nulla di male l'importante è che ovviamente la sai gestire e non sfoci ovviamente in pretese assurde o atti pericolosi ecco la cosa dell'ultimo che voglio dire su cui ho cambiato idea per esempio la gelosia è vero che quando la gelosia diventa una morbosa necessità di controllare l'altro e ti rende devastato dalle sofferenze e male però io prima criticavo anche la piccola gelosia mentre adesso capisco che è normale essere un pochettino gelosi non solo è normale è segno che ci tiene all'alto cioè se non fossi un po geloso significherebbe che davvero bene frega poco di lei se lei non fosse gelosa un pochettino perché troppo mi dà fastidio anche adesso però quel fatto che lei mi abbia gesto delle piccole gelosie mi fa capire allora io resisto per lei ma esista non come esiste il frutti vendolo sono un qualcosa di più speciale quindi finché un po secondo me al contrario di quello che pensavo prima è proprio segno di importanza che dalla persona il problema è solo quando diventa troppa questo più o meno è quello che volevo dirvi alla fine perché al di là dell'annunciamento si dice annunciamento o annunciazione ma non è importante la parola poi io sono ormai un artista sono un classico un giorno rimarrò nei libri quindi posso anche coniare termini comunque al di là dell'annunciare il mio fidanzamento abbiamo approfittato per dirvi questo fidanzamento che modifiche nella mia visione ha comportato devo dire che non so per esempio oggi mi sono svegliato da poco sono letto tardi sono letto tardi perché ho parlato fino alle sei di mattina con alessandra però mi vedo più bello è come se l'innamoramento proposa degli effetti positivi che io tendevo a non vedere ti rende anche più bello la pelle mi sembra più gli occhi a cuoricino lo so mi piace di più ecco poi ovvio che se non si fossero i cambiati magari si sarebbe molto male però io l'amo alessandra dovevo qui scusa magari una cosa un po banale di te lo che invito detto anche di persona però devo dire qui alessandra io ti amo sono follemente innamorato di te e anche se il futuro non si può mai prevedere penso che tu sia la persona con la quale vorrò condividere il resto dei miei giorni tutto qua sono un po titubante perché volevo dire un'altra cosa ultimissima solo che ho paura che ho già detto tante cose e poi metterci anche questo magari potrebbe suscitare delle critiche perché penso che quello che ho fatto quello che ho detto finora meno male cioè non c'è nulla da criticare poi fatemi sapere cosa ne pensate se vi dico anche questo fosse troppo volevo dirvi che su quanto riguarda i fare i figli non avete idea io non mi sento adatto a fare il padre però quello che mi viene da dire è che per caso fa dieci anni ora non mi sento adatto a fare il padre perché comunque non mi va di occupare un'altra persona mi occupo di me intendo in tutti i sensi soprattutto i motivi dei miei gatti l'idea di dove spendere il padre le giornate di occuparmi anche di un bambino di una bambina io non mi ci vedo però se fa dieci anni io ed alessandra ci sentissimo pronti più adatti perché neanche lei adesso si sente adatta o fa cinque anni ecco abbiamo essere troppi vecchi se no perché no ecco non lo escludo però ecco la differenza è che non direi mai che quel fare figlio nato d'amore semplicemente è che quando tu ti senti così compatibile con una persona forse ti viene naturale voler creare anche una sorta di nucleo familiare è vero che la famiglia e anche gli amici e persone generali come bene però è come se quel bambino un bambino frutto della vostra unione fisica fosse un qualcosa che vuoi produce non è che direttamente un atto d'amore però è prodotto anche dal vostro amore quindi c'è una cosa in sé carina anche se io oggi non mi sento pronto ecco è un po quasi già oggi capisco chi chi dice che fare i figli un po un completamento dell'amore magari sbaglia chi dice che se non si fa il figlio l'amore è a metà l'amore può essere appagante anche senza il figlio però è come se quel figlio fosse ancora una manifestazione ancora più concreta di quell'unione quindi penso che non farò finire anche in futuro probabilmente prima dicevo senza se ma mai no senza se senza ma mai oggi potrei dire potrei potrei anche cambiare idea se mi venisse voglia pensare che un atto egoistico l'amore eventualmente avrebbe dopo però ecco da innamorato non sono più così apodittico ecco non sono così più certo nel fatto che non accadrà in futuro però se ne parla fratempio e dipende da varie condizioni che comunque poi c'è vedere anche pensavo sta cosa vedere in questo bambino un po i tuoi occhi un po i suoi occhi un po il suo modo di camminare è come se in cui l'essere ci fosse un po di tempo di lui e ora in questo senso è una buona conti a volte uno pensa che l'amore vero sia quello che duri per sempre io questo non sarebbe pensato secondo me anche quando le persone si lasciano se si smette di amare non si è mai amato si può continuare ad amare anche se la persona non c'è più dentro il proprio intimo cuore però la morte pone fine a questa no immortalità dell'eventuale amore ma se tu fai un figlio in lei nella bambina o in lui nel bambino rimane qualcosa di te e di lei di questa unione e sua volta se anche lui fa figlia è come se nel piccolo perché poi impostando le generazioni rimane sempre di meno degli avi però qualcosa rimane paradossalmente in me c'è anche l'unione più o meno amorosa di persone anche di 3000 anni fa quindi in questo senso un'eternità un'eternità partiale ovviamente l'eternità relativa alla vita della specie umana comunque l'uomo si estinguerà però intanto dura finché l'uomo esiste con un amore che dura fin tanto che la specie umana esiste sebbene poi nessuno sarà conscio che io sono esistito però ci sarà in quel bambino del 4000 un qualcosina di me e di alessandra se faremo quindi non è poi tutto da da svalutare come faceva un tempo io penso che siamo imbecilli non saper cambiare idea poi non è che ho rivoluzionato tutto rimangono anche dei capi saldi però con delle modifiche tutto qua è bello essere innamorati è vero che c'è l'amore la gioia di dare io ho sempre detto amore non è l'innamoramento perché quella è follia ti puoi innamorare anche di un serial killer l'amore vero è quella tua voglia di dare anche se non senti le farfalle tu hai voglia di dare sei attratto fisicamente hai voglia di dare l'innamoramento meglio che non ci sia mentre oggi vedi vi dico evviva anche l'innamoramento con i suoi mal di pancia con i suoi mal di stomaco perché comunque l'uomo è anche folle quindi viva anche la follia un abbraccio e spero che siete contenti così io sono contento se se mi stimate se mi volete bene penso che dovete essere contenti che sarete contenti non dovete scusate spesso mi sento con della mia contentezza fatevi sapere comunque cosa ne pensate se siete contenti di questa mia novità cosa ne pensate soprattutto delle altre cose collaterali che ho detto ci tengo molto la vostra idea se siete arrivati fin qui scrivete viva l'innamoramento e viva chi sa cambiare idea se siete arrivati fin qui voglio vedere che l'ha visto tutto per le due cose importanti viva l'innamoramento e viva chi sa cambiare idea se siete arrivati qui scrivete nei commenti abbraccio